Il progetto all'ex scuole elementari ha vinto il concorso di idee, diciamo, il vuoto urbano. In cosa consiste questo progetto? Dunque, innanzitutto io partirei dal nome, spazio elementare. Lo spazio elementare identifica due cose sostanzialmente, uno spazio, quindi quello che non correttamente viene definito un vuoto, perché poi sarà uno spazio pieno di contenuti, ed elementare perché comunque suscita il fatto che lì effettivamente c'era la scuola elementare. Oggi questi spazi vengono definiti un po' dei vuoti urbani, degli spazi che non hanno una vera e propria connotazione. Quindi noi attraverso il concorso di idee che abbiamo fatto, che stasera presentiamo, che è tutto l'iter che è cominciato sostanzialmente l'anno scorso, andiamo a presentare quello che è il contenuto di questo vuoto. È sostanzialmente un parco, è sostanzialmente un parco il quale ha varie peculiarità, poi lo vedrete, la commissione ha definito cinque tappeti, dove c'è un tappeto verde, un tappeto ludico, un tappeto per ritrovarsi insieme, un piccolo spazio dove poter organizzare qualcosa che sia un po' più complesso, quindi uno spettacolo o qualcosa di questo genere qua. Tutto questo è arrivato come un processo, come un processo piuttosto complesso, siamo partiti da quello che è stato sostanzialmente un bando. Diciamo che innanzitutto abbiamo fatto tutta una serie di analisi con uno studio di fattibilità per capire che cosa si poteva fare. E poi è chiaro che si fanno poi anche i conti con la sostenibilità economica, con i soldi che si hanno in mano, e la soluzione, quella più adeguata, è stata proprio una soluzione sostenibile, quella di andare a demolire il fabbricato, che è un fabbricato che non potevamo recuperarlo, perché le quantità di denari da spendere su questo fabbricato, pensiamo alla sismica, pensiamo agli impianti, pensiamo alle riqualificazioni di questo fabbricato, era veramente troppo. Allora abbiamo pensato di creare uno spazio, quello che qualcuno definisce un vuoto, quello che posso anche io definire un vuoto urbano. Ricordo che, credo, come ho già detto tante volte, che la peculiarità di Rivarolo siano proprio gli spazi vuoti, cioè le alle sono sostanzialmente degli spazi vuoti. E quindi perché no? Perché non riqualificare uno spazio non andando a costruire, non creando nuova antropizzazione, si dice tecnicamente, ma creando uno spazio vuoto. Senza precludere però che in un futuro potrà essere costruito qualcos'altro come il teatro interrato che avete in mente? Sì, quello del teatro ipogeo è sicuramente una delle cose più belle che si potevano effettivamente creare. Ipogeo proprio perché stava sottoterra e quindi lasciava questo spazio vuoto sopra. È chiaro che nel momento in cui parte un progetto di questo genere e poi andare a rifare le opere di urbanizzazione diventa un po' complesso. Chiaramente il vuoto rimane sempre, ma non è un vuoto a tutti gli effetti, ma è un vuoto con dei contenuti. E quindi anche uno spazio aperto può avere dei contenuti ed è quello che abbiamo cercato un po' di fare in questo progetto. E quindi uno spazio aggregativo? Certo, uno spazio aggregativo. Ricordiamo che lì ci sono tante scuole, tanti studenti, migliaia di studenti che arrivano su Rivarolo. E quindi questo io credo che sia uno spazio sia per le famiglie, per gli studenti, per un minimo di attività anche culturali all'aperto. Io credo che ci possa sicuramente stare.